ore 9.35 si parte per il monte venturosa in 3.999 si parte per il monte venturosa in 3.999 si parte per il monte venturosa in 3.999 il retegone, il monte due mani, le due grigne, so da 2.999 ed ecco il monte venturosa facciamo di meno il monte venturosa in 3.999 si parte per il monte venturosa in 3.999 si parte per il monte venturosa in 3.999 per il monte venturosa in 3.เรconomica il monte ventura il monte ventura abbiamo appena superato la baita del Giacom la baita del Giacom, il fondo della pianura padana con gli appennini, foschia sulla pianura ormai in cima ore 12.20 siamo arrivati in cima al Monte Venturosa metri 1999 ecco la Croce di Vetta del Monte Venturosa grandioso oggi il panorama con il vetto all'interno del Giacom Gli appennini, la rebbia in Valpadana, i ripetitori della Valcava, i grattacieli di Milano, il resegone, il cornizzolo, il Monterai, il Corne di Canzo, in fondo il Bollettone, il San Primo, la Grignetta, il Monterosa, il Grignone, il Soda Dura, Zuccone Campelli, l'Aran Alta, il Pizzo Baciamorti, il Pizzo Baciamorti, il Pizzo di Tre Signori, Disgrazia, il Gruppo del Pernina, la Tamanco in Vana, la punta della Presolana, la Rera, il Monte Guglielmo e l'Alben. Panorama dalla vetta del Monte Venturosa, metri 1999, a Valtareggio, il Resegone, sotto il Paese di Morterone, le Prealpi Lombarde, il Cornizzolo, il Monte Romani, i Corni di Canzo, le Due Grigne, in fondo il Monte Rosa, la Rera Alta, con le Campelli, il Pizzo Baciamorti, e il Pizzo dei Tre Signori, Disgrazia, il Bernina, la Valprembana, la Presolana, la Rera, Guglielmo, l'Alben, Guglielmo, l'Alben, Guglielmo, l'Alben, Guglielmo, l'Alben, Sono le 13.05, lascio la cima del Monte Venturosa e inizio la discesa. Oggi è una giornata molto limpida, a parte le creste alpine coperte un po' dalle nuvole. Oggi è un po' dalle nuvole. Una pozza ghiacciata. Fra poco sarò alla bite del Giacom, ormai sono le 13.30, mi fermo a mangiare qualcosa. Ecco arrivata la bite del Giacom. Sono le 14.20, dopo la sosta presso la bite del Giacom si riprende la discesa. Giacom si riprendete il Giacom. Giacom si riprendete il Giacom. Dal passo di Grialeggio sono le 15.10. Si scende su questo versante tutto a Londra. La neve è dura, servono i ramponcini. Giacom si riprendete il Giacom. Giacom si riprendete il Giacom. F gib Spread. Nella bella faggeta facendo attenzione a non scivolare sul fogliame secco Sono le 16.20 sono arrivato al parcheggio termina quindi questa escursione molto bella al monte venturosa nei 3.999 passando presso il passo di Grialeggio Ecco il parcheggio Grazie